La barriera antiplastica, sono due mesi che sta operando con risultati straordinari, in due mesi ben una tonnellata e mezzo di rifiuti di plastica sono stati raccolti e verranno avviati poi nelle strutture per un riciclo, a dimostrazione che la plastica è anche una ricchezza non solo fonte di inquinamento, l'iniziativa voluta dalla regione ha avuto esiti talmente buoni che è stata prorogata nel tempo, l'iniziativa che risale all'ottobre scorso, qui vedete i tanti detriti, questo praticamente era già dopo una settimana, ha recorti più di 4 metri di cubi di rifiuti che poi sono diventati nel giro degli ultimi mesi quasi una tonnellata e mezza, l'iniziativa verrà prorogata nei prossimi mesi, è un'iniziativa che già sul fiume Po ha dato esiti straordinari.